Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con la ripresa dei lavori in questo mese di settembre ufficialmente in Palazzo del Pegaso con l'insediamento della commissione d'inchiesta sui vaccini, non solo sui vaccini, anche su tutto lo stato di emergenza che riguarda il Covid nella nostra regione. Eletto il Presidente, il Vicepresidente, facciamo dunque il punto della situazione sul lavoro che dovrà svolgere questa commissione dedicata. Si è insediata alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale la commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario toscano per contrastare l'emergenza coronavirus, in particolare dell'andamento della campagna vaccinale. Eletto Presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, Vicepresidente Federica Fratoni del Partito Democratico, Vicepresidente e segretario Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata dalla Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e risultato di contatti informali avuti con i diversi gruppi politici. Non circoscriveremo la nostra attività su quello che è la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile, attraverso il lavoro di questa commissione, ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana, che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questa in due direzioni, da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati i passaggi di ordine amministrativo, e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro, anche attraverso una ricostruzione, diciamo, in attività costruttiva di questa commissione, si possano impedire il verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Secondo noi questa commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia, tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate, e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione, non solo riguardo ai vaccini, ma un po' a tutto il mondo della sanità, perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco, io credo che la commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante, perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia, e la situazione del pronto soccorso è una evidente conseguenza. Ma io credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella, un confronto purché sia serio nel merito e delinei, secondo me, oltre ai dubbi, anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito. E a proposito di emergenza coronavirus, nuovo regolamento interno per quanto riguarda il Consiglio regionale che prevede l'obbligo di Green Pass. Obbligo di Green Pass per l'accesso in presenza all'Aula Consiliare, alle commissioni e a tutti gli eventi istituzionali che saranno organizzati all'interno di Palazzo del Pegaso. Lo prevede il nuovo regolamento interno approvato dall'ufficio di Presidenza e illustrato dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Era un impegno che avevo preso. Credo che noi per primi dobbiamo dare segni di responsabilità verso l'esterno e sono contento che tutti i colleghi oggi presenti in Consiglio regionale abbiano partecipato utilizzando il Green Pass. In quel regolamento siamo andati un po' oltre. Diciamo che tutte le riunioni che vengono effettuate all'interno del Consiglio regionale chi parteciperà dovrà essere munito di Green Pass. Credo che sia una delle posizioni più avanzate in questo momento. Ringrazio tutti i gruppi politici per aver supportato questa proposta e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte. È il tempo di ridare alle persone la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione. Qui sotto c'è una manifestazione da parte dei Novax. Devo dire che è giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso, ma non con insulti, minacce. Ho visto dall'altro anche un segno che è rappresentativo della furia nazista e paragonare i vaccini, che sono libertà, a quel simbolo è qualcosa davvero di sgradevole, di grave, ma noi non ci fermiamo. Le loro minacce non ci fanno paura. Penso che oggi noi abbiamo un grande compito, che è quello di cercare di restituire ai cittadini la piena libertà e può passare solo attraverso i vaccini. Vi dico due numeri che per me sono fondamentali. In questa settimana ci sono stati 23 persone che purtroppo sono andate in terapia intensiva. Di queste persone 20 non erano vaccinate e diversi di loro avevano meno di 40 anni. Ecco, io penso che questo, se i numeri parlino, contino, noi dobbiamo continuare con forza questa campagna vaccinale e non saranno certo le urla o le minacce qui sotto che non ci faranno andare avanti, spediti in questa direzione. Adesso parliamo anche di edilizia residenziale pubblica in Toscana con il sì alla nuova legge da parte dell'Aula del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato dopo un lungo dibattito è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni dopo aver trovato la sintesi in un emendamento prima firmataria Elisa Montemagni della Lega e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli che prevede l'obbligo per i cittadini ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e che non autocertificano residenza fiscale in Italia di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. La regione toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei Comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha. Sono circa 50 mila alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni. Ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità anzi data l'indicazione di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Noi ancora non abbiamo discusso i nostri 2500 emendamenti, siamo in fase di discussione generale, il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti, quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza e quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero, quindi per il principio di equità, così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri, per poter avere una casa popolare in Toscana, dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in Commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla Giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla Commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza, tre punti anziché due per dieci anni di residenza, a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in Commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla Commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in Commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della Commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nel lavoro di Aula, in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana e in particolar modo nelle città toscane. Ma è una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo noi è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto, di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda e che noi abbiamo sbagliato e ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte, senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata termina qui, vi ricordo l'appuntamento per la prossima settimana con la voce del Consiglio, potete sempre restare aggiornati però anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV38. Arrivederci.